La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa, sfogliamo le pagine dei quotidiani, andiamo sul mattino nazionale, vediamo quali sono le principali notizie. Si parte con la decisione della Russia di ridurre l'esportazione di gas, l'Italia pare sia il paese che più risentirà di queste strette della Russia. Vediamo ritorsione di Mosca sul gas, pesanti tagli, il prezzo vola, questo è il titolo di apertura per il mattino. Oggi un'altra riduzione dei flussi, famiglie imprese già in estate, i primi sacrifici, il peso del caro Bolletti. Intanto oggi il premier italiano Mario Draghi sarà a Kiev, vediamo la missione con Macron e Scholz. Draghi a Kiev, pressing dell'Unione Europea, Zelensky tratti con Putin. E ancora l'Ucraina reclama, la zuppa rossa, la guerra persino a tavola, sul Bosch decide l'UNESCO. Il vertice, la BCE corre ai ripari e lo scudo anti-spread fa respirare le borse. Ancora ci spostiamo di fondo, l'analisi, il partito degli astenuti e le risposte che mancano. Questo per quanto riguarda il dopo voto, dopo la giornata di domenica delle elezioni amministrative in diversi comuni italiani, ma anche per il referendum che ha raggiunto a malapena il 20% degli elettori al voto. Se restiamo sulla politica, mandiamo di spalla il caso del Movimento 5 Stelle. Il Tribunale salva Conte, ma è gelo in Parlamento. Non sussistono i gravi motivi che giustificano l'adozione del provvedimento di sospensione. Così si è pronunciato ieri il Tribunale di Napoli, che ha rigettato l'istanza cautelare presentata da alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, che puntavano a far sospendere nuovamente Giuseppe Conte dalla presidenza del partito. Le notizie di centro pagina. Napoli, il dramma, 17 anni, accoltella e uccide la madre, il ragazzo di origine lituane, ha aggredito la donna dopo una lite, medici genitori. E poi il rapporto, cale in campagna la speranza di vita, record di obesi, ancora sempre per la sanità, l'allarme vaiò lo scimmio e il primo ricovero al Cotugno. Nella fotonotizia le raccomandazioni del Papa alle giovani coppie, niente sesso prima delle nozze. Per le notizie in basso, i personaggi, troppo facile attaccare Gigio, l'eroe decaduto, quel gigante 23enne che si ora ai due metri, l'eroe della finale europea a Wembley, si è sentito improvvisamente piccolo e smarrito quando l'altra sera in diretta TV gli hanno ricordato l'episodio di Real Paris Saint-Germain che incise sull'eliminazione della squadra dalla Champions. E ancora a nove, il vitalizio contestato da chi non sa. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, vediamo i titoli. Per la prima pagina del mattino di Salerno, escalation di violenza a Salerno, vediamo infatti che proprio su questo argomento che apre oggi il mattino di Salerno, vediamo spari in strada, guerra di gag, colpi di pistola di notte in zona Irno, l'ipotesi di una faida tra gruppi di giovanissimi. La pista, una risposta al raid di paste, nel colonnello Trombetti tentano di colmare vuoti di potere. Doveva essere una serata tranquilla la zona Irno, ma all'improvviso si sono sentiti dei rumori di scooter ad alta velocità e degli spari revolverate in strada indagano i carabinieri che ipotizzano una guerra tra bande di giovanissimi, l'allarme del comandante dell'arma. E poi la tragedia in autostrada, poliziotto si uccide con l'arma di ordinanza sulla piazzola della 2. Andiamo avanti, sempre per la violenza, e ci spostiamo di fondo. Due comunali aggrediti al lavoro dall'uomo in cerca di carta d'identità. E ieri mattina la notizia dell'ennesima aggressione negli spazi dell'ufficio anagrafe di via Picarelli ai danni di due dipendenti comunali. Un uomo si era recato ai servizi demografici per fare una carta d'identità. La richiesta di avere i due testimoni necessari, l'uomo è andato in escandescenza aggredendo verbalmente la donna. L'uomo è stato denunciato. Per la sanità, turnovera ASL, 34 aspiranti per la poltrona del manager. Andiamo in alto, l'economia, ferraioli, futuro ai nostri ragazzi con formazione e innovazione. Nella fotonotizia invece dedicata alla Salernitana, vediamo Salernitana tra mercato, ritiro ed amichevoli di lusso, Ederson, Pepita d'Oro di Iervolino, Diurice e Bonazzoli, ora più lontani. Troviamo poi sul mattino di Salerno l'intervista a Nello Longobardi, Scafati, la serie A1 e un altro pianeta. A centro pagina l'ambiente, un ramo crolla sul bus, emergenza potature, battesimo di fuoco per il nuovo direttore del verde della casa, i consumatori, situazione ingestibile. E ancora i controlli, lotta agli incivili dei rifiuti, altre otto multe a locali e lidi. Per le fotonotizie in basso, l'urbanistica, San Pietro ritrova luce la parrocchia del corso. E poi la politica, nocera, carica figli d'arte, agropoli, voti da ricontare. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo invece per le cronache, si apre ancora con l'ichiesta che vede coinvolta la Scabec. Vediamo Scabec, nuovo blitz della finanza, impasse di De Luca. Questo è il titolo per le cronache, acquisiti altri documenti. Nel mirino le procedure di assunzione del personale, assunta Tartaglione, ha annunciato che non firmerà più atti. Aniello Salzano, sono ostaggio della regione, richiamassero bottiglieri. Le notizie in alto sotto il titolo di testata, caos rifiuti a Salerno, Napoli ammette, telecamere non servono per gli incivili. E ancora, restiamo sempre a Salerno, Sofocasa vince Altari, legittima l'esclusione del comune. E ora ci si chiede cosa accadrà. L'analisi del voto con te respira, grazie al Tribunale di Napoli, ma la crisi dei 5 stelle è politica. Andiamo a centropagina. Materie prime, la denuncia di Ferraioli, prezzi alle stelle, ripercussioni locali, servono soluzioni concrete. Parla il presidente di Confindustria, che lancia un appello agli imprenditori. Ancora la politica, parliamo di Agropoli, dopo le elezioni comunali, ci sono ombre, si registrano ancora ombre sul voto, la commissione elettorale, ci sono gravi incongruenze. E ancora Pozzuoli, l'ex sindaco figliola, pretese sesso in cambio di buoni spesa. Poi troviamo qui la denuncia dell'imprenditore scafatese Lazzaro Dauria nel mirino della malavita. Per le notizie invece di fondo, gli anni 90, Rosario Peduto, non c'è più entusiasmo, colpa di chi ci governa. Per Abuccino, andiamo a Abuccino, dove, per la quale troviamo l'intervista al neoeletto sindaco Pasquale Freda, pronti a batterci contro l'arrivo delle fonderie. La Salernitana, Iervolino, uno sforzo per Cavani, De Santis punta su destro come nuovo acquisto e rinforzo per i Granata. Queste le nostre prime pagine, torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo già visto, partendo proprio dalle decisioni della Russia di ridurre il trasferimento di gas ai paesi dell'Unione Europea. Vediamo la guerra dell'energia, offensiva russa sul gas, pesanti tagli nell'Unione Europea, alleni meno il 15%. Da oggi lo stop complessivo sale al 60% degli approvvigionamenti. Continua la corsa del metano, quotazioni oltre 120 euro. Le rassicurazioni di Cingolani, monitoriamo la situazione, per adesso non ci sono criticità. La versione ufficiale di Gazprom, una turbina è bloccata in Canada e l'altra invece è in manutenzione. Leggiamo una parte dell'articolo. Rubinetti del gas sempre più stretti in Europa esordisce così in questo articolo e mentre il prezzo vola per la prima volta Mosca mette nel mirino anche l'Italia. Ieri Gazprom, il monopolista di Stato russo dell'energia, è tornato a notificare un'ulteriore riduzione di un terzo dei suoi flussi diretti nel vecchio continente attraverso il gasdotto Nord Stream 1, appena poche ore dopo aver comunicato un primo drastico taglio del 40%. Il nuovo sviluppo nel braccio di ferro delle forniture di metano porterà da oggi lo stop complessivo a oltre il 60% degli approvvigionamenti. Le novità di ieri hanno mandato ancora una volta alle stelle i prezzi del gas nella piazza di riferimento di Amsterdam dove si è registrato un balzo del 24% in chiusura sopra i 120 euro al megavattore, valori che non si raggiungevano dalle prime settimane di guerra in Ucraina. A Bruxelles come a Berlino e Roma però per ora si predica cautela e si escludono shock immediati. Andiamo in basso, la mossa di Putin ai limiti dell'aggiotaggio per finanziare la guerra con soldi europei nei primi 100 giorni del conflitto è incassato 98 miliardi di dollari grazie alla vendita di idrocarburi. Le forniture verso Pechino e Nuova Delhi compensano in parte i contratti sospesi per ritorsione ai paesi dell'Unione Europea. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, restiamo sempre sul tema del carro gas, vediamo quali saranno le ripercussioni sulle famiglie e sulle imprese, ripercussioni che come annuncia il mattino potrebbero registrarsi già in questi mesi estivi. Vediamo famiglie e imprese, aria condizionata e consumi, primi sacrifici già in estate, timori per l'accumulo delle riserve, possibile l'anticipo dei razionamenti, lampioni spenti e temperature più basse mentre il prezzo potrebbe toccare 200 euro. Crescita a rischio, inflazione alle stelle torna allo spettro della crisi economica. Nel piano il riavvio delle centrali a carbone per risparmiare fino a 5 miliardi di metri cubi. Vediamo quali sono i punti. 120 euro il prezzo a megavattore del gas sulla borsa TTF, il prezzo del metano sulla piazza olandese volato a 120 euro dopo che era fermo da tempo a 80 euro. 76 miliardi di metri cubi di gas consumati all'anno. Il gas è una delle principali fonti energetiche usate in Italia dalle famiglie e dalle imprese. Il 30% è per riscaldamento domestico. 200 euro la stima di prezzo del gas in caso di stop all'import. Ancora 29 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia. Gazprom è uno dei principali fornitori di metano per l'Italia. In basso troviamo l'allarme lanciato da Confindustria sull'Italia. Il caro bollette pesa più che nel resto d'Europa. Regina, livelli ormai insostenibili, urgente un tetto al prezzo oppure una piattaforma sovranazionale. E chiudiamo anche questa pagina. Andiamo avanti. Parliamo ora invece del report presentato dall'Istat per quanto riguarda anche i dati della povertà in Italia. Ancora una volta il meridione maglia nera per l'Italia con un aumento dello stato di povertà delle famiglie. Vediamo povertà 2021 in aumento nelle regioni meridionali. Questo è il titolo per il mattino sud. Ormai una famiglia ogni 10 vive in condizioni di disagio assoluto. Reddito di cittadinanza e ripresa non hanno ridotto i divari territoriali. Lo scorso anno i primi segnali di inflazione hanno rosicchiato il potere d'acquisto dei redditi bassi. La povertà non è stata sconfitta, anzi quella assoluta, la più pericolosa e risultata indifferente sia il reddito di cittadinanza sia la ripresa vigorosa dell'economia lo scorso anno. Nel 2021 infatti l'Istat ha calcolato poco più di 1,9 milioni di nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta per circa 5,6 milioni di persone. Esattamente come l'anno precedente, più difficile per via della pandemia quando si erano toccati i massimi storici di questa preoccupante statistica. I numeri confermano che siamo tornati ai valori del 2019 e gli esperti danno quasi per scontato che andrà peggio nell'immediato futuro quando le conseguenze della guerra in Ucraina, l'impegnata dei costi dell'energia e l'inflazione faranno sentire maggiormente il loro peso. E con questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine del mattino di Salerno, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, escalation di violenza a Salerno, via Irno, presa ad assalto da una possibile guerra tra giovani. Vediamo ancora spari in città, l'ipotesi una guerra tra bande di giovani, il titolo colpi di revolver nel cuore della notte, panico in piazza Eppolito da Pastina, le urle disperate dei cittadini spaventati, gli autori potrebbero essere dei minorenni. Il colonnello Gianluca Trombetti all'antimafia, gruppi criminali tentano di colmare i vuoti di potere. E poi ancora in basso il provvedimento, donna accoltellata dall'ex, il figlio è stato il papà cattivo di mio fratello più piccolo. Convalidato l'arresto, il GIP ha agito con molta crudeltà, a suo carico già un'ordinanza cautelare che è stata violata. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sul mattino di Salerno, Andiamo ora sulle pagine della Piana del Sele, del Cilento, dei Picentini e del Vallo di Diano. In apertura il caso del poliziotto che si toglie la vita sull'autostrada. Vediamo poliziotto di Oliveto, si spara in autostrada con l'arma di ordinanza. Calzeretta, 43 anni, era in servizio alla squadra mobile, promosso per importanti indagini, è stato anche assessore. E a Giffoni, Vallepiana, droga e pistola in casa, beccata 29enne. A centro pagina invece il caso del dopo elezioni ad Agropoli, niente proclamazione, pesce, valuta il riconteggio. Sospesa la proclamazione del neosindaco, muta li passi a causa dei dubbi non ancora sciolti sui voti totalizzati in alcuni seggi. Si dovrebbe riunire nuovamente stamattina la commissione elettorale chiamata a valutare la validità delle amministrative ad Agropoli. Ieri infatti sono stati solo parzialmente risolti i dubbi relativi a due delle tre sezioni nelle quali erano emerse differenze tra gli esiti elettorali e quelli indicati sui verbali. Considerato che per arrivare al ballottaggio ci sono in ballo poche centinaia di voti, la questione attira parecchia attenzione. Resta da chiarire la situazione del seggio presso la scuola Scudiero e a San Marco dove ci sono incongruenze che penalizzerebbero i candidati al sindaco Pesce, Serra e La Porta. Andiamo in basso, Battipaglia, distributore di benzina in consiglio francese, finisce nel fuoco incrociato. A Vallo della Lucania, Cinghiali, Carni in vendita, aprono quattro centri di raccolta. Per le notizie di spalla, Buccino, area a cratere, il modello detta la linea in Centrafrica e ancora da Padula, da Betlemme al Valdiano si progettano le Smart City. E chiudiamo anche questa pagina del mattino, restiamo sempre sullo quotidiano salernitano, parliamo ora invece di calcio, parliamo della salernitana. Le prese con il mercato per rinforzare la squadra in vista della seconda stagione in Serie A, vediamo Ederson, Valeoro, frenata, Bonazzoli, in arrivo quattro giovani. Questo è il titolo, il presidente Iervolino sogna Cavani e parla del brasiliano, non lo cederò in dubbio i riscatti del pistolero e di Castanos. Nuova chance per Ribery, rinnovo a Diurice, braccio di ferro, l'emergente De Luca, possibile alternativa, piace Felix, ma la Roma chiede 5 milioni di euro. Si stringe per Lovato, flirt con Beruato, Mazzocchi, offerte da Monza e Torino. Belek vuole l'estero, Mikai secondo di Sepe. E per quanto riguarda invece le amichevoli estive della salernitana, salernitana in ritiro contro mezza Europa, presentazione in città e il sogno Valencia. Date ufficializzate, partite in Austria, Schalke, Offenheim, Roio Vallecano e il Galatasaray, il 30 luglio, Ringhio. Queste le possibili amichevoli per la salernitana. Chiudiamo il mattino di Salerno, spostiamoci ora sul quotidiano. Le cronache, lo abbiamo già visto anche dal mattino. Ombre sul voto ad Agropoli, sul voto amministrativo ad Agropoli. Vediamo il titolo. Ombre sul voto, ora la commissione elettorale frena gravi incongruenze. Il caso potrebbe finire all'attenzione della Procura. Fratelli d'Italia annuncia pronti a procedere per vie legali. La sezione 7 conterebbe 806 voti, ma le schede registrate sarebbero 20 in meno. Il seggio numero 18 vedrebbe la differenza di solo due voti. Sezione 21 invece, seggi assegnati a candidato inferiori. E poi ancora a Camerota, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Camerota. 8 seggi assegnati alla lista scarpitta terra da mare e 4 a uniti per cambiare. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti sempre sulle cronache. Troviamo l'intervista al neoeletto sindaco di Buccino, Pasquale Freda, che parla ancora della battaglia contro le fonderie Pisano. Anche il sindaco Freda annuncia appunto vari colpi per evitare la delocalizzazione a Buccino delle fonderie. Vediamo il titolo. Siamo pronti a batterci ancora contro la delocalizzazione delle fonderie Pisano. Pasquale Freda è eletto con 36,69% delle preferenze. Dopo 25 anni finisce l'era deluchiana e di Parisi. Il prossimo 25 giugno dovrebbe esserci l'insediamento. è pronto a battersi contro la delocalizzazione delle fonderie Pisano seguendo il percorso avviato dalla precedente amministrazione comunale con a capo Nicola Parisi, Pasquale Freda, neo sindaco di Buccino, che ha conquistato la vittoria con il 36,69% delle preferenze a fronte del 28,73% ottenuto da Francesco Fernicola e il 25,83% di Maria Trimarco. Lavoreremo a partire dai vari problemi che attanagliano il paese. Queste le prime parole da sindaco per Pasquale Freda. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, lo abbiamo visto anche dai titoli della prima pagina. Ancora si allarga l'inchiesta Scabec con nuovi documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza. Vediamo Scabec, la Guardia di Finanza in sede per acquisire nuovi atti e documenti. Questo è il titolo. La Regione Campania continua a temporeggiare ma oggi alle 15 dovrebbe riunirsi l'Assemblea per sbloccare il tutto. L'attacco di Salzano ai vertici di Palazzo Santa Lucia sono loro ostaggio. Assunta Tartaglione avrebbe fatto sapere di non firmare più altri atti ufficiali. E andiamo in alto il caso aggressione verbale ai danni di due dipendenti dell'ufficio anagrafe di via Piccarielli. A denunciarlo la Cisla FP che chiede maggiori controlli e soluzioni efficaci a tutela dei lavoratori comunali. In basso il fatto rifiuti a Salerno, il progetto di ecopolitene per migliorare la raccolta della plastica. L'obiettivo è recuperare i beni in polietilene. Una gestione virtuosa dei rifiuti inizia da una raccolta di qualità. E chiudiamo anche questa pagina. Andiamo avanti sempre sul quotidiano. Le cronache vediamo. Andiamo in Costiera Amalfitana dove saranno attive le targhe alterne per la circolazione in quest'estate. Vediamo. Targhe alterne in Costiera Amalfitana. Decisione da rivedere. Parla Antonio Elardi di Federalberghi che scrive responsabile area compartimentale dell'ANAS. Il commissario regionale Iannone, una scelta che arriva in ritardo senza alcun preavviso e senza che si sia stata data la possibilità al territorio di organizzarsi. E poi in basso dal barocco al classicismo viennese con i giovani musicisti del liceo Alfano I, secondo appuntamento musicale domani per il Maiori Festival. E con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg. Grazie per averci seguito. Auguro a tutti una buona giornata.